Ci sono ben 20 giocatori che secondo me è meglio lasciar perdere al fantacalcio perché? Perché sono giocatori che o sono difficili da gestire o li paghi troppo rispetto a quello che possono darti o si riveleranno dei flop e oggi te li elencherò tutti e 20 per cui non sono pochi e l'ultimo nome so che farà molto molto discutere se stai cercando un'app che ti aiuti in fase d'asta proprio che ti segue che ti aiuti anche a evitare queste trappole ti consiglio Fanta Algoritmo Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché durante l'asta ti mette proprio in ordine i giocatori a seconda del ruolo per indice di appetibilità per cui mano a mano che i giocatori vengono chiamati ti dice chi chiamare, quanto pagarlo e quando chiamarlo trovi Fanta Algoritmo al link qui sotto in descrizione ricordati di utilizzare il codice sconto FantaGall20 per risparmiare il 20% su qualsiasi pacchetto che apro e chiudo parentesi partono già da prezzi molto bassi inoltre Fanta Algoritmo durante la stagione ti aiuta andando a dirti gli indici di schierabilità della tua formazione per cui ti fa la formazione giornata per giornata Fanta Algoritmo codice sconto FantaGall20 il primo nome che ti faccio è quello di Cambiaso della Juventus è andato in hype perché nelle prime giornate è partito titolare al posto di Kostic quando Kostic la Juventus voleva cederlo in questo momento Kostic è rimasto avevano bisogno di soldi Kostic tornerà ad essere titolare quindi Cambiaso rischi di andarlo a strapagare per poi dopo trovarti in mano un giocatore che subentrerà ma che non sarà sempre titolare per cui evitiamocelo chiaro che un fuori ruolo nella Juventus l'istato difensore che ti va a giocare al centro campo fa molto gola però lascia perdere Cambiaso che non è l'uomo su cui puntare in questo momento poi se vuoi fartelo come scommessa a uno ma in questo momento Cambiaso si va a pagare anche sul 3% del budget e secondo me non ne vale la pena il secondo nome che ti faccio è Okafor del Milan se prima poteva avere senso prenderlo soprattutto in tandem con Giroud o potevi prenderlo anche da solo per dire ogni tanto ho il giocatore che quando ci saranno le coppe partirà titolare ora è la seconda riserva di Giroud ogni tanto potrebbe giocare pure al posto di Leao ad ogni modo Jovic dovrebbe essere sopra di lui nelle gerarchie quindi Okafor in questo istante lo lascerei perdere Shomurodov del Cagliari ragazzi se prima che arrivasse Petagna poteva avere un senso perché comunque finché non sarebbe ritornato la Padula sarebbe stato titolare comunque avrebbe avuto delle chance ora con Petagna secondo me Shomurodov è soltanto una riserva adesso ne giocherà diverse ma quando tornerà anche la Padula lo vedremo in campo veramente poche volte tra l'altro anche Luvumbo bollato per cui io diciamo che Shomurodov me ne terrei alla larga apri chiudo parentesi non è che poi nello Spezia e nella Roma in passato abbia portato grandi bonus altro nome da cui tenersi a larga Saces dell'Udinese Saces è un giocatore che non è neanche male ma sono in tanti nell'Udinese Toven ha fatto una gran preparazione quest'estate idealmente in questi istanti i titolari sono Toven e il buon Lucca poi tornerà De Olufeo quindi dopo i titolari potrebbero essere De Olufeo e Toven spostato nel posto di Lucca o comunque sia Saces dopo sarebbe dietro sia Toven che a De Olufeo quindi lasciamolo per adesso ne giocherà qualcuna ma dal ritorno di De Olufeo in poi lo vedremo veramente poco in campo tra l'altro se vuoi avere Saces al fantacalcio seguimi io sono Michele ti aiuto col fantacalcio cerco di riempirti di consigli utili sia in preparazione dell'asta che dopo per schierare la formazione al meglio giornata per giornata quindi iscriviti al mio canale che è abbastanza veloce gratis altro nome da evitare in Udinese Ferreira ora potrebbe partire qualche volta titolare sulla destra come fuori ruolo a centrocampo però idealmente il titolare sarebbe Il Fibue e quando tornerà sarà titolare lui dopo di lui c'è anche Bosele che anche lui era infortunato e sta tornando quindi Ferreira evitalo evitalo perché rischi di pagare un panchinaro altro attaccante da cui tenersi alla larga Quernadz del Frosinone nel Frosinone ci sono tanti giocatori e Quernadz secondo me la titolarità l'ha persa visti tutti i vari arrivi dell'ultimo minuto quindi lascia stare Quernadz tra l'altro c'è una grande novità su Fanta Eleven sono partiti i Fanta Calcio sulla Champions e se vai al link che trovi qui sotto in descrizione ho aperto una mia lega pubblica sul Fanta Calcio Champions infatti nelle leghe pubbliche su Fanta Eleven trovi sia la mia lega pubblica iscritti Fanta Gol questa è una lega pubblica sulla Serie A con anche dei premi finali che ti ho già spiegato vatti a descrivere per ogni giornata che hai perso prendi 60 punti ma se scorri la lista trovi la lega Fanta Gol Champions l'unica lega sulla Champions League free a cui puoi partecipare lega pubblica vatti a divertire iscriviti oh è gratis però io un premio finale ce lo metto infatti il vincitore avrà una maglia da calcio gratis free consegnata a casa sua però devi vincere tutta la lega occhio non è facile inoltre su Fanta Eleven ci sono due tornei premium a pagamento con grandissimi premi c'è il torneo sulla Serie A con tutti i premi di cui ti ho già parlato prima un iMac delle bici elettriche la maglia originale di Mbappé autografata la tv Samsung gigante smartwatch completi a calcio maglie da calcio borsoni felpe monopattini tablet e anche dei powerbank per i campioni di giornata ma come ti dicevo oltre a questo torneo ci si affianca un torneo premium sulla Champions League iscriverne una squadra costa sempre 19,90€ iscriverne 3 costa 54,90€ ma guardiamo i premi per il Fanta Premium Champions abbiamo la maglia di Vinicius Junior autografata un tablet Samsung completo da calcio maglia da calcio felpa e anche qui magliette e powerbank quindi anche qui diciamo che i premi sono belli ghiotti entra su Fanta Eleven passa dal mio link qui sotto in descrizione partecipa ai miei tornei gratuiti o partecipa a quelli promossi da Fanta Eleven altro giocatore che mi dispiace dover depennare dalla lista Viti del Sassuolo pensavo che sarebbe stato un buon titolare da mod una scommessina da pagare poco ma evidentemente si preferisce 3 soldi per manifesta superiorità quindi andiamo avanti con 3 soldi evitiamo Viti evita anche 3 soldi ragazzi è sempre nelle mie fantasfighe perenemente Mota del Monza adesso con l'arrivo di Colombo Mota sarà messo di più in discussione poi già non portava grandi bonus l'ho visto pagare in alcune leghe sul 5-6% del budget io adesso Mota lo eliminerei dalla lista perché comunque sia se già non portava bonus almeno ti dava titolarità ora la titolarità è in discussione per cui lo eviterei da evitare anche Banda del Lecce il voto lo prende quasi sempre però scordiamoci la titolarità perché adesso sembra che il Lecce voglia giocare con Anquist a sinistra e già prima comunque non era pienamente titolare perché si preferiva Di Francesco quindi adesso io Banda lo eviterei buono per il voto se vuoi considerano un sesto slot ma fermiamoci lì da evitare anche Beltran della Fiorentina ora ci ha spiegato l'italiano l'anno scorso come lui gestisce i suoi attaccanti Cabral Jovic dell'anno scorso insegnano perché se il titolare idealmente doveva essere Cabral tu avevi un Cabral che quando ti andava a giocare in coppa poi ti era riserva in campionato Beltran è idealmente la riserva di Nzolà se prendi Nzolà devi prendere anche Beltran questo è proprio una cosa su cui non ci piove ma Beltran da solo per me è un no sense perché Beltran ti giocherà quando Nzolà sarà impegnato nelle partite importanti di Coppa Italia e di Conference quindi quando Nzolà partirà titolare in coppa allora Beltran sarà titolare in campionato ma viceversa non succederà mai che Beltran sia titolare in campionato quando Nzolà ha riposato per cui ti vai a prendere diciamo una riserva plus dintola lasciam stare da evitare anche a dopo nell'Atalanta ha fatto un gran bel precampionato illudendoci che potesse portare bonus però poi alla fine che è successo adesso fa il panchinaro c'è troppa gente con Gasperini non si capisce chi giochi quindi lui lo eviterei e altro giocatore su cui la gente sta iniziando a investire troppo io l'ho visto a partire anche sul 3% del budget Ulm Ulm ragazzi è stato preso perché numericamente gli servivano delle riserve ma Ulm non è titolare Ulm per me è la riserva di Tappacosta può giocarsi la titolarità con Ruggeri dove tu avrai un Tappacosta spostato a sinistra e a destra un Ulm però ricordiamoci che c'è anche Bacquer e Bacquer prima o poi giocherà perché comunque sia un giocatore su cui l'Atalanta investe quindi lasciamo stare Ulm ragazzi giocatore che mi dispiace che sia finito in panchina Ndica della Roma io quest'estate te lo professavo come un titolare dopo un po' è scoppiato Llorente per cui adesso quello da puntare è Llorente tra i due Ndica prenderà il voto molto spesso ma non è più il titolare altra scommessa che mi dispiace depennare dalla mia lista cancellieri attaccante dell'Empoli ora con l'arrivo anche di Cambiaghi probabile cambio modulo che passa a due punte cancellieri diventa una riserva tra l'altro già giocava un po' spostato indietro sulla destra sulla tre quarti per cui era quasi un fuori ruolo al contrario ma poteva ancora starci per la titolarità adesso così cancellieri per me è una scommessa da non fare altro uomo da evitare Tamev uomo di Juric che ha voluto fortemente in questo Torino però ora in questo Torino potrebbe non avere tanto spazio tra l'altro scordatevi quelle cose fantasiose collette da qualche parte che lui potrebbe andare a giocare sulla tre quarti ma figuriamoci cioè Tamev sarà impiegato come centrocampista di contenimento e si alternerà a Ricci o a Illich comunque sia Tamev in questo momento per me non ha neanche la titolarità quindi evitiamocelo altra scommessa di tanti mi dispiace rovinare le scommesse altrui Folo Ruscio del Verona vedrai che adesso nel Verona ci sarà anche un cambio modulo per cui potresti trovarti ad avere due giocatori dietro la punta e non tre e quei due giocatori possono essere idealmente Lazvic con uno Trambula e Saponara e se anche fossero tre potrebbe esserci Saponara con Lazvic e Mbula quindi comunque sia Folo Ruscio è destinato a far da riserva a me come giocatore piace cioè puoi anche dire faccio la scommessa a un credito come ultimo slot però se ci devi puntare di più se idealmente per te deve essere un stesso slot lascia perdere c'è di meglio se pensi di essere un bravo talent scout o di essere bravo al fantacalcio ti consiglio di entrare in Starks Starks è all'exchange dove compri e vendi token ufficiali dei giocatori con tanto di licenza ci sono alcuni top player tipo Immobile Frattesi Mancini Strepezza Gonzalef alternati a nuove giovani scommesse tipo Carne Secchi Bove Birindelli Marchizza Calafiori Mandrago eccetera eccetera perché comunque ne stanno entrando i nuove e qui oltre alla compra e vendita dei token tu hai due giochi con il primo gioco a seconda delle prestazioni del giocatore ad ogni partita vengono bruciati un tot di suoi token ad esempio nella disfatta della Fiorentina con l'Inter sono stati comunque abbrociati 5100 token di Gonzalef e meno token ci sono più i token valgono quindi se tu scegli un giocatore che sai che porterà buone prestazioni allora vedrai piano piano abbassarsi il suo numero di token e crescere il suo valore il secondo gioco è proprio un fantasy game in stile fantacalcio dove vai a schierare 5 giocatori tra l'altro presto uscirà il mio video perché ho avuto la fortuna di poter provare la beta e questo gioco partirà con la quarta giornata schieri 5 giocatori poi a seconda delle quantità di token che schieri quindi della percentuale sul totale di token che hai schierato di un giocatore quel giocatore inciderà di più o di meno sul tuo punteggio e se tu fai un buon punteggio puoi scalare le classifiche settimanali mensili e di stagione e andare a vincere dei premi premi che sono veramente molto alti entra su Starks passando dal link che trovi qui sotto in descrizione avrai per te in omaggio 15 euro al primo deposito che deve essere almeno di 20 euro quindi hai quasi quasi il doppio dei soldi che vai a mettere ah tra l'altro adesso Mancini è un nuovo giocatore Starks e se ne acquisterai almeno 20.000 token parteciperai all'estrazione di una delle sue 5 maglie autografate mica male la maglia di Mancini ultimi 3 giocatori poi arriva l'ultimissimo per cui beccherò tanti nomi altro nome del Verona Diuric a parte che in tutto l'anno scorso ci ha portato ben un gol fatto quindi è già un bomber di razza abbiamo il fatto che c'è anche Bonafioli e se poi giocano sempre solo con una punta sembra che il titolare si angonge se angonge lo tengono avanzato e non lo riportano dietro quindi in questo momento Diuric non è neanche buono per il fatto che ti porti sempre il voto se la gioca troppo con Bonafioli è anche il fatto di essere la prima riserva anche se credo che alla fine giocheranno con Bonafioli punta angonge lo sposteranno indietro quindi altro motivo in più per evitare Follorunsch andiamo nel mio Bologna secondo me è da evitare Ndoge in tanti lo stanno puntando perché lo ritengono quasi un fuori ruolo è un buon giocatore però obiettivamente sui due lati della tre quarti del Bologna a destra tu hai Orsolini e spiegami come fai a toccarlo e volendo c'è anche Salemacher a sinistra tu hai Klassen e Klassen ha già pigliato quel bel set a parte tutto è un gran giocatore vedrai che sarà lui il titolare là a sinistra quindi Ndoge entrerà quasi sempre però la titolarità fissa non ce l'avrà e se tu pensi di prendere un titolare lascia stare Ndoge se invece pensi di fare una scommessina che entrerà ogni tanto comunque un giocatore offensivo ok deve essere preso sotto l'1% del budget ultimamente l'ho visto andare su un po' sparato altro giocatore da evitare nel Bologna è Ebischer vero è che può essere un jolly una riserva sia davanti che dietro ma davanti iniziano ad essere in troppo e dietro i titolari dovrebbero essere Moro e Freuler quindi Ebischer lasciamolo stare è quel giocatore che non è né carne né pesce quindi non te ne fai niente se non ha la titolarità e ultimo giocatore però qui ci pianta un bel asterisco non è da evitare a priori è da evitare se tu lo vai a prendere pensando che sia un titolare ma questo te lo dicevo già prima evita Arnautovic se tu lo vai a prendere credendo di andarti a fare il titolare dell'Inter perché il titolare era già evidente prima ma adesso lo è ancora di più il titolare dell'Inter è Turam con di fianco Lautaro tu Arnautovic lo prendi perché tu vuoi prenderti la riserva della punta titolare che sai che magari giocherà dopo le coppe un po' come Milik nella Juventus che però non ha le coppe quindi in realtà è quasi più interessante Arnautovic o ad esempio un Belotti nella Roma considerato che adesso è arrivato Lukaku il fatto è che Arnautovic si sta pagando troppo tra l'altro prima dei gol qua di Turam Arnautovic in alcune leghe l'ho visto andare più alto di Turam ho visto un Arnautovic andare via sull'8% del budget anche 9 ora è un po' sceso ma sta sempre sul 4-5% del budget e secondo me è troppo perché potresti arrivarti a fare l'attaccante titolare di una squadra medio piccola a quel prezzo diciamo parte destra della classifica però non so se ne valga la pena qui il fatto è se sono tranquillo sono in una lega 8 magari te lo puoi fare un Arnautovic ma in una lega 10 il voto te lo piglierà quasi sempre ma è difficile da schierare quindi prendilo sì ma non strappagarlo non ti dico di evitarlo a priori ora fammi sapere quali altri giocatori secondo te sono sopravvalutati o comunque da evitare al fantacalcio ricordati di lasciarmi un bel like se ti è piaciuto il mio lavoro e seguimi io sono Michele ti aiuto col fantacalcio ciao buon'asta del fanta a tutti o qui adesso ti si apriranno degli altri video e la prossima settimana ci vediamo con i consigli sulla formazione per la quarta giornata non mancare